...abbiano ammesso al torneo. Una bambina della tua età dovrebbe starsene a casa a giocare con le bambole. Sono contento di essere in coppia con te, sai? Sarà di sicuro un combattimento fantastico. Anche tu sei messo bene, non è vero, Trunks? Ehi, nonnetto, cosa sono tutte quelle arie? Vedi, dato che al contrario di te mi reputo un avversario educato, sono venuto a presentarmi e augurarti sportivamente buona fortuna. Nonnetto! Dite ai giudici che il numero 11 si è appena ritirato. Oh, Vegeta non cambierà mai. Vai papà, sei grande! Possiamo dare il via agli incontri. Dichiaro il torneo mondiale di arti marziali ufficialmente aperto! Gli iscritti erano 114, ma solo 12 concorrenti hanno superato le eliminatorie. E ora si confronteranno nella tradizionale sfida che vedrà emergere il vincitore assoluto. Anche quest'anno la manifestazione è gentilmente sponsorizzata da Mr. Satan, super campione italica! Saitan! Saitan! Saitan!